Quando mi chiedete che gioco è questo io vi rispondo che è un simulatore e vi risponderò per sempre che è un simulatore perché questo non si guida come Need for Speed che potete fare quello che volete accelerare più a più non posso come volete la macchina tiene sempre no questo è un simulatore ogni auto che si guida ha una tipologia di fisica differente che sia trazione anteriore posteriore 4x4 come quelle che stiamo usando in questo momento o anche la posizione del motore e la distribuzione dei pesi le ruote influenzano la fisica del veicolo quindi se vedete che fate fatica a guidare o avete delle piccole difficoltà non è come utilizzare un gioco arcade uno su tutti Need for Speed o un Forza Horizon è perché questo è un titolo simulativo quindi durante la guida qualsiasi cosa che fai